Buongiorno a tutti, come state? Spero bene. Allora, io mi sono appena alzato e farò colazione con voi. Mi sono preparato un bicchiere di caffè latte che io adoro. Adesso vado a girare perché c'è lo zucchero. Questa è una colazione molto genovese, perché io la mattina per esempio mangio sempre un bel pezzo di focaccia. Buona. Allora, prima di tutto voglio chiedervi una cosa. Visto che tra un po' arriviamo ai 4.000 iscritti, vi chiedo sotto questo video se avete voglia di farmi due domande a testa, così io risponderò poi in un video. E se volete partecipare ovviamente fatemi due domande a testa, io nel video vi saluterò tutto quanto e risponderò alle vostre domande. Però una cosa, non fate domande troppo personali, perché a quelli non risponderò. Quindi semplicemente voglio tenere YouTube da una parte e la vita privata dall'altra. Quindi a domande troppo personali non risponderò. Però voglio fare questo speciale per i 4.000 iscritti. Quindi se volete partecipare, due domande a testa sotto questo video, io risponderò. Voglio proprio affittare del fatto di fare questo video per dirvi questa cosa, perché fare un video di un minuto, due minuti, per dirvi questa cosa non mi sembrava al caso. Anche se sarebbe l'unico modo, perché avessi 10.000 iscritti vi farei un post e invece non ce li ho. Quindi fatemi ci arrivare 10.000 iscritti così faccio i post. Non ce li farò mai probabilmente però. Che buono il caffè e latte ragazzi, ho... Cosa c'è sto orecchio che mi brude? Io adoro caffè e latte. Oggi sono abbastanza sconvolto, cioè... Tantissimo, sono sconvoltissimo. Poi aspetta, voi credete sia mattina presto, no? È mattina tardi. Tra l'altro qua a Genova c'è l'erta medio gialla e arancione. Sta piovendo come tutto. Ieri notte grandinava, ma ragazzi, ho messo quella foto su Facebook. Ho preso un bocchietto così di grandine che c'era, si era depositata sulla mia finestra, cioè. Un bel bocchiettone. Un po'. Voi di solito cosa mangiate la mattina? Io, le mie abitudini sono cambiate tantissimo. Una volta mangiavo solamente il latte con i biscotti, per dire. Solo che... I latte con i biscotti, diciamo che... Sono un grande stimolante per il tempagno, eh. Anche il latte e il caffè, fondamentalmente, però di meno. Ho avuto il periodo anche delle fette biscottate, per dire. Però io al mattino preferisco mangiare una cosa salata e bella una cosa dolce. Alla genovese, proprio. Questa è la classica colazione genovese. La focaccia, la mattina, è ancora meglio. Pucciata nel latte e caffè. O solo nel latte. Allora, ragazzi. Se non siete messi a Cina, va. Dovete solamente venire per far colazione. Ne varrebbe la pena. Allora, ragazzi. Vedete? Vedete? Adoro. ecco ci serve un altro pezzo di focaccia ma credo che la credo che la mangerò più tardi ho prima visto un video smr che vorrei riprodurre sul mio canale bellissimo ultimamente facevano lo scratching e lo tapping su blu yeti non ce l'avevo mai pensato in realtà e lo voglio fare anche io bene ci ho tirato uno starnuto di quelli che levati che sparecchio la tavola secondo me mi sto ammalando di nuovo ragazzi non vorrei dire ma uno starnutisco non è mai buono e ovviamente come tutti come si dice come dopo tutti i i pasti anche la mattina la sigaretta la mattina ragazzi non vi dico che ore sono perché mi vergogno questo c'è sto facendo un brutto tempo da una parte sono contento perché almeno se si deve andare a mangiare qualcosa fuori visto che siamo sotto le feste non si va quindi meglio si no non ce la voglio ragazzi e vai a fangulo cazzo urli ma senti questa troia e quindi preferisco così stasera se riesco devo registrare un un cane un cane un cane un roleplay se riesco perché me l'hanno richiesto in tanti e quindi voglio voglio registrarlo mi devo scrocchiare al ginocchio e si ragazzi sono a pezzi io cioè credo che un vecchio di 80 anni sia molto più in forma e stasera voglio registrare assolutamente il roleplay devo inventarmi qualcosa però perché se no avrebbe troppo simile a un altro che ho già fatto piccolo spoiler piccolo spoiler si tratta di videogiochi in particolare un roleplay quindi chi l'ha visto sa insomma di cosa sto parlando e però devo inventarmi qualcosa ma in realtà so già cosa fare spero uscirà carino perché devo insegnarmi un po' io non vedo l'ora ragazzi che finiscono queste feste maledette cioè è una cosa che io non non sopporto in nessun modo veramente quest'aria di felicità finta è una cosa che io non sopporto è così non ci posso fare niente è bello che se sto così c'è un doppio mento perché c'è il telefono basso e e e quindi niente devo questa settimana purtroppo non potrò registrare troppo perché i rumori ragazzi in questo video purtroppo ci saranno non posso farci assolutamente nulla è così non potrò farci nulla perché appunto è mattina tra virgolette quindi i rumori ci sono la tascia di capelli indegna veramente e quindi poi con la pioggia tra l'altro ancora peggio ieri sera veramente veniva giù il mondo infatti ha detto anzi ieri sera volevo registrare io solo che a un certo punto è iniziato a grandinare fortissimo e sbatteva sulla persiana la grandina e quindi una mitragliatrice sulla persiana ho detto ok no e quindi non si poteva assolutamente fare niente ok io ho finito la mia sigaretta adesso vado a sistemarmi la camera perché c'è un po' di casino e nulla ci vediamo al prossimo video mi raccomando non scordatevi delle domande due due domande a testa e io poi quando raggiungerò i 4.000 iscritti magari aspetterò ancora un pochettino per far sì che gli altri magari mi facciano altre domande magari arrivano in ritardo farò il video e e nulla anzi scrivetemi anche un'altra cosa se preferite che io rispondo la vostra domanda in whispering o in soft spoken che secondo me è molto carino da fare questa cosa ditemelo magari può essere una una cosa carina non lo so niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao